Buonasera, ci troviamo a Piazza Università per l'inaugurazione della mostra sul CERN che avverrà a breve. Sono qui con il professor Antonio Inzolia, che è il direttore della sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Allora, la domanda, diciamo, si parla di ricerca e Catania sicuramente ha una tradizione in questo campo. Che futuro c'è per questa città e per la ricerca? Una domanda difficile, una domanda complessa che richiederebbe una discussione un po' più articolata. Sicuramente Catania e in particolare la fisica di Catania ha sicuramente un ruolo di primo piano nel panorama nazionale e internazionale. Non è solo a merito nostro, ma certamente di tutti quelli che ci hanno preceduto in questo, dei nostri maestri. È una tradizione consolidata. È una tradizione che in questo momento deve fare i conti con il contesto che in qualche modo non ha favorito, almeno negli ultimi anni, la ricerca e i giovani in questa direzione. Si vedono, però sono ottimista fondamentalmente, si vedono dei segnali incoraggianti che vanno nella direzione giusta, direi, da parte del governo. Sicuramente è un interesse maggiore, un interesse che non c'è mai stato, devo dire la verità, nei confronti del mondo scientifico, del mondo accademico e in particolare nei confronti della fisica e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ho l'onore di rappresentare qui. Quindi, non so, questo è concreto l'interesse, nel senso che siamo riusciti a mettere insieme un certo numero di posti di ricercatore, il cui concorso è in fase di espletamento, è un numero che sembra enorme, 73 posti di ricercatore, tutti in una volta per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è una cosa che non si era mai vista. È un momento di transizione importante e fa sperare bene nell'immediato futuro. Infatti, proprio per questo mi viene in mente, diciamo, la prossima domanda, si parla sempre, cioè tante sono le menti che rimangono qui a fare ricerca, però è anche vero che si parla tanto di fuga di cervelli, le motivazioni le conosciamo un po' tutti, ce ne sono tante, dai fondi che sono sempre di meno, dal nepotismo un po' presente, da presunti casi di corruzione all'interno degli Atenei, Lei come pensa di arginare, come si potrebbe arginare questo fenomeno? Di nuovo, quello che sta cambiando è anche l'attenzione nei confronti dei nostri giovani, che sono stati, fra virgolette, costretti. Tanti dei miei studenti sono fuori, in questo momento, dall'estero, e non è semplice e facile farli rientrare. Non è semplice perché hanno tutti posizioni particolarmente importanti, perché guadagnano di più, è inutile nasconderlo, perché hanno maggiore disponibilità di fondi per la ricerca, perché possono organizzare meglio il lavoro a loro volta dei loro studenti. Detto questo, però, di nuovo, ci sono segnali incoraggianti, un certo numero di giovani stanno rientrando sulla base di progetti e programmi tipo l'Eri Montalcini, che consente ogni anno a 24 giovani in qualunque settore, in qualunque disciplina, del sapere di ritornare con prospettive certe, anche di posizioni stabili e di carriera. C'è la possibilità per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di chiamare giovani brillanti con procedure estremamente semplificate, direi, confrontabili con quelle che si usano all'estero, solo sulla base del merito e nient'altro. Ne abbiamo chiamati cinque dentro l'INFN di recente, pochi mesi fa, e speriamo di continuare in questa direzione. Allora, siamo fiduciosi per il futuro. Sono fiducioso e ottimista, intrinsecamente da un lato lo sono, dall'altro i segnali che vedo, come ho già detto, mi sembra che concorrono tutti a formare un quadro meno drammatico di come lo è stato nel passato.